Parere sull'ultimo video di Marco Merrino Mi ha fatto l'effetto del film di Boris Ovvero Il finale ti atterrisce Ti lascia un amaro in bocca Non nel senso che non ha fatto un buon lavoro Intendo proprio a livello narrativo Ti lascia un amaro in bocca tipo Nooo Però ho fatto molto bene, vabbè c'è Simone d'Andrea Quindi tanta roba Marco è una certezza sui video Ciao